Era il 28 aprile scorso quando in via Regola Cucurano avevamo raccolto l'appello di alcuni residenti e del commissario dell'Udcifano Stefano Pollegioni per la situazione di abbandono e degrado lungo l'ex ferrovia Fanurbino a pochi metri dalle abitazioni. Una preoccupazione espressa in realtà per diversi anni dai cittadini che lamentavano un bosco di rovi e serpaglie, habitat di animali anche pericolosi. Ieri lo scenario era questo, con le forti piogge il tratto si è completamente allagato, con l'acqua arrivata nei campi e nei giardini circostanti. Ieri la ferrovia era diventata un fiume in piena? Esatto, come si era già preannunciato, gli era stato detto pulita, l'ha pulita, non l'hanno voluto pulire. Ecco il risultato. Che cosa è successo esattamente? Qua hanno istruito i rami non raccolti, ha fatto la diga, qualcuno si è trovato, non qualcuno, quasi tutti, l'acqua vicino alla porta di casa, questo è tutto. Poi adesso il resto, poi il fossi in cima non è stato pulito, ha traccimato da lì, da lì entrati nella ferrovia, la ferrovia ha trovato la diga e poi è successo quello che è successo. Insomma siete stati un po' tutti col fiato sospeso? Sì, delle ore bruttissime perché dovevamo combattere con l'acqua. Infatti adesso ricomincia a piovere. Adesso sta ripiovendo, adesso andiamo a chiudere, sperando che non succeda come almeno è successo io. Se qui non toglie niente a nessuno, la situazione si ripete come quella di ieri, perché l'acqua non ha la possibilità di usufruire giù nella fogna. Infatti i giardini si sono allagati, ma anche alcune abitazioni all'interno. Sì, l'acqua è arrivata fino a porta di casa, con tutta la fanghiglia e tutto quanto, un macello. Da quanti anni non viene eseguita una bella pulizia? Sono cinque anni sicuro, poi non ci possiamo neanche permettere di fare qualcosa. Noi qui i rovi li abbiamo tolti tutti noi, non possiamo neanche far più di tanto perché se ci vede qualcuno ci fa la foto col telefono, insomma abbiamo fatti affari nostri. Io dico solo che è ordinaria amministrazione, non è che uno chiede chissà cosa, è una pulita perché quando succedono queste cose e quando puliscono di non lasciare le cose lì, perché insomma se ci arriviamo noi, che non siamo competenti, penso che chi ha competenza lo dovrebbe capire insomma meglio di noi. Lei era a casa ieri signora? Sì, sì, ero a casa. È rimasta preoccupata tutta la giornata? Sì, molto preoccupata, anche perché noi siamo qui, il terreno va un po' in pendenza quindi entrava come di qua, da noi un pochino meno però insomma la preoccupazione c'era perché anche l'acqua che veniva giù dal fozzo, come trova la discesa, si infila. Ho fatto una paratina con qualche tavola di legno per non farla entrare nel portico, anche perché ho piano terra, quindi voglio dire se mi entra. Noi non chiediamo niente, qui purtroppo non abbiamo la rete fognare, non abbiamo la metanizzazione, ci hanno portato l'acqua l'anno scorso, l'acqua dell'acquedotto e quindi insomma magari ecco quel poco di vero, visto che è anche una zona dove tutti vengono a camminare e ci vengono insomma è anche piacevole farlo in mezzo a tutto questo verde che sia un po' tenuto bene, solo quello ecco, vuol dire, ordinaria amministrazione che si chiede piani idrogeologici. Grazie